Io ho pensato all'esperienza della Germania di scedere appunto quando si è aperto il dibattito sulla questione dei mille giorni. Penso che sia giusto lavorare con un minimo di prospettiva, il che non significa affatto rallentare. Cioè usciamo un po' da questo equivoco, attenzione, perché andare veloci significa, si può andare veloci senza orizzonti oppure andare veloci con un obiettivo. Io penso che si possa tranquillamente andare veloce, in modo incisivo e concreto, però avendo presente un obiettivo di medio e lungo periodo. Del resto sappiamo bene che se si vuole davvero cambiare questo nostro paese ci sono due cose che sono inevitabili. Primo che qualcuno si scontenta, diffidiamo da quei cambiamenti su cui sono tutti d'accordo, non ci ho mai creduto e penso che un sindaco lo sappia meglio di tanti altri. O no? Primo. Secondo, diffidiamo da quei cambiamenti che si fanno alla giornata, in un giorno. Mi pare che l'impostazione del governo Renzi sia l'impostazione giusta. Perché? Perché va a toccare quei temi, quei punti su cui, ahimè, anche a sinistra, nessuno ha avuto la forza e la determinazione di andare fino in fondo.